buongiorno ragazzi siamo di nuovo qui sto annoiando con i video con la neve un'altra curiosità che molti mi chiedono e anche io volevo togliermi è in caso di strada bianca in discesa lunghe discese non una discesina come si comporta la macchina questa mattina credo che riusciamo a scoprirlo come vedete la strada è bianca è passata lo spazzaneve quindi è abbastanza scivolosa la frenata rigenerativa non è al massimo ma è comunque un pochettino funzionante la batteria fredda come vedete 50 per cento col simbolino della neve chiaramente sulla neve fresca la macchina va decisamente meglio tiene molto di più la strada così è più scivolosa bisogna assecondare un po di più il suo ondeggiamento però la macchina va sempre bene grazie alle quattro ruote motrici e le gomme da neve adesso come vedete ne ha fatta di neve ha smesso da poco ce n'è una montagna e adesso è molto scivolosa ecco io adesso ho mollato l'acceleratore la frenata rigenerativa è tanto è stata intervenuta tanto per cui la macchina è partita dietro è partita la coda leggermente e poi la ripresa non è stato proprio bello comunque è stata particolarmente brusca bisogna vedere se in queste condizioni è meglio mettere la frenata in modalità più bassa allora su qualche video ho visto che qualcuno diceva che non era più disponibile invece con l'ultimo aggiornamento io ce adesso qui la strada è pulita vediamo tra poco avremo tra poco avremo il ponte in discesa per cui scopriremo come come nella discesa allora riprovo andando stavo andando intorno ai 60 all'ora ho mollato l'acceleratore abbastanza deciso io sto guidando come non si dovrebbe guidare un po più brusco per vedere le reazioni della macchina in condizioni un pochettino più complicate se no tanto vale allora è scivolosa no adesso io anche quando la macchina frena da sola con la rigenerativa ma non parte prima invece mi ha dato quel colpetto che non mi è piaciuto per niente adesso vediamo c'è un ponte in discesa molto molto brutto perché passa anche l'aria sotto i ponti quindi spesso ghiaccia un po vedete la strada è pulita però purtroppo quelle due macchine davanti che andranno molto piano voglio magari farle allontanare un attimo allora le facciamo allontanare e poi facciamo il ponte andiamo a partire le macchine si sono allontanate allora partiamo la macchina cominciamo la discesa del ponte allora io come molo l'acceleratore comunque la frenata interviene molto sul posteriore per cui senti sempre il posteriore muoversi allora qui abbiamo la frenata rigenerativa al massimo vedete le macchine davanti stanno andando pianissimo allora vediamo tende leggermente nel posteriore che adesso la strada non è così brutta come speravo per cui la macchina va giusto andando giù tranquillo la telecamera chiaramente non rende però qua comincia a essere discesa vedete le macchine davanti a me stanno andando lentissime proviamo faccio una frenata con i freni vediamo cosa succede l'ABS interviene si si ferma dopo qualche metro vediamo un po purtroppo con le macchine davanti non è facile volevo andare un pochettino più veloce per renderci conto comunque questa è discesa quindi è il classico ponte brutto d'inverno dove come vedete le macchine giustamente lo fanno lentamente io mollo della macchina fa tutto da solo praticamente comunque basta usare l'acceleratore non abbiamo cambi di marcia non abbiamo se sei un po brusco chiaramente la frenata è più o meno alla metà se sei un po brusco parte un po di coda ma veramente niente no no anch'io avevo il dubbio a fare queste discese e devo dire che non c'è nessun problema ripeto se siete un po bruschi tende a mollare dietro proviamo a diminuire la frenata rigenerativa vediamo adesso non è più discesa ma tra poco ricomincia la macchina comunque chiaramente frena molto meno però rallenta vediamo adesso riprende la discesa vediamo un pochettino la discesa io sinceramente la preferisco con la frenata più invasiva cambiamola un attimo eh sì con la frenata più invasiva naturalmente la senti proprio muoversi molto di più dietro per quanto mi è venuto anche la scritta con la frenata ridotta ma non è come quando è più freddo che non ho non ho proprio frenata non saprei dire quale quale è meglio come credo che alla fine comunque la standard rimanga adesso qui purtroppo questi vanno esageratamente piano vediamo un po cosa potremo fare va bene adesso sapete cosa faccio esco dall'auto dall'autostrada e facciamo la strada normale che più rilassante è una gran bella idea ci siamo liberati delle macchine e è appena passato lo spazio neve dall'altro lato quindi è comunque molto liscia la strada non è brutta ma è molto liscia riprendiamo la discesa e vediamo ancora come si comporta sto andando leggermente più forte di come vado normalmente quando ci sono queste condizioni con il pick up via dalla spiga hotel cristallo di cortina due ore 54 minuti e 27 secondi alboretto isnaffi però devo dire che il dubbio su come si sarebbe comportata in discesa è fugato assolutamente sicura e tranquilla come tutte le macchine col vantaggio di non aver bisogno di cambi marcia che danno sempre quel momento di coppia che non spesso è indesiderato allora adesso qua ripassiamo di nuovo sotto un altro ponte che ecco la macchina leggermente dietro si è mossa passiamo sotto un altro ponte che spesso di inverno di notte brutto perché passando l'aria si ghiaccia abbiamo lo spazzaneve che viene in su la strada è pulita ma liscia molto liscia naturalmente è molto meglio quando c'è la neve fresca le gomme fanno molto più ripresa però direi che si può si può viaggiare tranquillamente anche in discesa ci siamo tolti questo dubbio siccome è una domanda che mi è stata fatta più volte e interessava anche a me abbiamo approfittato di questa mattina con ulteriore nevicata qui se io mollo leggermente in curva senti che la macchina col sedere la senti che tende a traversarsi leggermente ma è tutto facilmente controllabile potrei andare anche un po di più ma non è il caso perfetto ragazzi per questo video ulteriore video è tutto se avete altre domande fatemele pure ho un altro video in mente perché ci sono delle cose che vorrei chiarire grazie a tutti e alla prossima ciao 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 ciao